Il trionfo del colore saluta il museo Pushkin e si trasferisce a Palazzo Chiericati a Vicenza. E lo stesso sindaco Francesco Rucco con il premier Giuseppe Conte a ricevere simbolicamente la mostra dalle mani del ministro della cultura russo nella cerimonia che si è tenuta oggi pomeriggio a Mosca. Così in uno dei più grandi eventi culturali mai realizzati dall'Italia in Russia, il premier e il sindaco hanno suggellato un'amicizia nel nome della cultura. Un'occasione per promuovere il patrimonio artistico veneto e vicentino, molto apprezzato in Russia, un paese che rappresenta un serbatoio turistico in forte ascesa verso l'Italia.